ok abbiamo iniziato la sessione di jenny benvenuti ciao elena a tutti conto da 5 1 5 4 3 2 1 se la vedi e come la vedi si la vedo come se avesse un costume di scena tipo un vestito con una maglia una camicia un po larga e una con un po larga leggeri e dietro a tre dischi rigidi messi non sono piatti ma così verticale di taglio esatto sono uno al centro e quelli un po laterali un po così attaccati alla sua schiena più alti di lei ti dà l'autorizzazione si è ok i dischi sono degli impianti più che gli impianti sono le tre persone di cui lei si fa carico troppo mi dice c'è sento proprio come se anche sia va davanti loro mi stanno attaccati quindi compagno figlio 1 figlio 2 se il grande e il piccolo se vibrazione 7 miliardi e mezzo percentuale di consapevolezza 134 psp 41 59 vite precedenti 2312 cervello 9,2 ok chiamiamo psp e sull'attenti come le vedi allora la p e la vedo più come se fosse pronta allora pronta ad agire nel senso bella energica bella attiva ma che guarda un po la ps che è un po spostata un po c'era vedo un po schiacciata verso la terra e la pie che la guarda come per dire cavolo ma tirati su sono qua non riusciamo a fare niente domanda entrambe chi è jenny allora dicono vabbè la prima cosa che mi è venuta e dicono che jenny è la creatrice di soli mi fanno vedere anche un'immagine ed è come se lei creaste delle sfere che piccole ma che possono essere paragonabili come se fossero dei pianeti ma piccoli c'è che stanno nelle mani e sono uno dentro l'altro tipo e più ce ne sono e più son potenti lei li crea grazie alla ps o grazie alla p e in una vita in particolare dove vedo che era un'eremita sui monti del nepal e ricreava i soli se fidiamo uno di questi soli delle remita e lo analizziamo gli chiediamo di creazione 1 lo mettiamo per terra e lo analizziamo allora sono soli che con il sole lì l'eremita lo creava per armonizzare le emozioni riusciva ad alzare le vibrazioni delle emozioni negative e è come se riusciva questo questo sole oltre alzare queste vibrazioni come se mandava alla persona l'assoluto come se arrivasse un messaggio di soluzione per la risoluzione del problema che aveva portato l'emozione negativa quindi è come se grazie a questo sole vedo l'eremita che veniva chiamato no non veniva chiamato la gente andava da queste remita ok per farsi creare questi soli e quando l'eremita creava il sole per la persona le vibrazioni dell'emozione negativa per cui la persona era andata aumentavano e nel frattempo è come se nella mente della persona fosse chiara la soluzione c'è la strada da intraprendere quindi non è un ad eternum non è vibrazione è un consiglio su cosa fare si energetico arriva a livello energetico si come si chiamano questi soli come li chiama l'eremita così per le bianche per le bianche perché l'aspetto fuori è quasi quasi simile alla neve ok sembrava tu era forse meglio consigli per gli acquisti cosa fare no consigli per come muoversi cosa fare va bene ci sono delle entità eteriche nella sfera energetica di geni sì allora sì io direi nettuno aveva c'è odino allora che diciamo concretamente si fanno aiutare da un falco uniforme è un reptile e poi ci sono due uomini del tempo edl anche dl vanno da da lì alle entità di mentali ce ne sono due una di livello 3 una di livello 4 quindi sono due gli edl 3 ora accusate la 3 la 4 cosa cosa fanno allora 3 la vedevo molto bene prima quando lei dice che a un certo punto oltre le due persone lei non riesce più e come se non si si sentisse più in grado di sostenere la la con la conversazione l'interazione io vedevo proprio che oltre le tre persone il suo livello di sui livelli di energia energetico si espande si espanderebbe tantissimo ok ho visto proprio che l'entità di livello 3 è come se schiacciasse un bottone nella sua mente quindi con un bottone ferma i suoi pensieri e gli manda dei più come se fossero delle lastre dei delle parole così a caso o dei comandi che spengono la frase e gliene mettono un'altra che non c'entra niente proprio ho visto prima proprio quasi potrebbe quasi sembrare un meccanismo meccanico elettrico livello cerebrale proprio di pensieri cambiati e l'entità di livello 4 invece quella che le che l'ha convinta finora da sempre che lei non ha diritto di chiedere niente a nessuno perché è come se fosse come se lei si sentisse in dovere di aiutare tutti e non perché per avere qualcosa in cambio ma semplicemente perché bisogna fare così e quindi la vedo proprio bloccato in questo meccanismo di dovere sempre fare senza sentirsi in diritto di chiedere di ricevere cioè anche se venisse dato qualcosa senza che le chiedesse e si sentirebbe a disagio perché come se non lei non avesse il diritto di ricevere ok vita precedente in cui deriva da cui deriva questo fatto allora mi ha fatto vedere questa vita dove lei e bimba maschiere un bimbo maschio ed è dietro questo bancone di un negozio che era dei genitori è come se lei lì dietro guarda ogni cliente che entra nella sua mente spera che i clienti la nottino e le diano una caramella un dolce un giochino qualcosa una monetina ma che assolutamente è stato assolutamente imposto e proibito categoricamente di chiedere niente a nessuno perché i clienti vanno rispettati e quelle mancazza di rispetto questo mi fa vedere quanto vecchia questa vita quante vite fa due vite fa direi fino a 800 primi dei novecento delle donne uomo un bimbo maschio su 2312 vite ok l'abbiamo capito va bene se lo mettiamo in tasca su 2312 vite quante volte è stata donna in percentuale 50 50 o o no 1500 donna quindi maggioranza donna lei ci parla del maschile e del femminile questa sua vita si confronta con tante volte con un maschile maschile che non la comprende un maschile con cui non dorme preferendo il letto del figlio un maschile controllore maschile chiama e il compagno e la fiamma no gemella no esiste la fiamma agenzia matrimoniale infinitum dovevo fare l'app infinitum heart qua tutti che ho copiano copiano adesso tutte queste cose mi faranno l'app infinitum art poi mi contattano dicono la te la prendiamo diamo sgancia sgancia il portafoglio viene a vivere con me un segno rita ole è che tutti tutti ridono quando di queste cavolate anche di bimbo matto bombarolo piace tanto e niente sto litigando col microfono beh anche primo matto bombarolo non è male no per niente bello jambi magari facciamo bimba matta bombarolo alla fine di questa sessione visto che jenny è la creatrice di sole di soli infatti ok qual è la domanda la domanda è una meraviglia la fiamma si c'è secondo me quello che lei ha trovato e lo sente chiaramente lei la sa già sa cosa significa sa cosa si trova sa cosa si sente sa qual è il collegamento la prova io la vedo collegata sì ma lei ce l'ha parlato prima penso avere intuito io vedo così lento belle insomma mi sembra una che ha intuito in questo momento jenny giusto ha intuito e lì che si tocca al mento che fa ma come dire ho capito io non ho capito l'unico che non ha capito delle tre dei tre comunque bene è quella la fiamma se ma scusa ed è una perché sennò qua sembrano perché ci capitano tutte persone quasi tutte persone con la fiamma incarnata disponibile ultimamente quello che vedo io che è come se avessero visto che c'è uno strumento per aiutarsi a avvicinarsi si sono riconosciute in eterico e hanno visto anche questa cosa altra domanda interessante nel periodo che stiamo vivendo di grandi cambiamenti di stupidaggini castranti di di giustizia di tutti i tipi di costituzioni calpestate eccetera quanto incide più che so fare indagini come tutti mi chiedono lucio salvaci tu pensaci tu volate vabbè quanto conta invece il discorso fiamme 1 inattaccabili 2 sul livello talmente alto che non è descrivibile 3 una parte subliminale che si riunisce all'altra metà quindi chiude il gioco quindi esce se e poi è talmente c'è quando si riuniscono le fiamme la forza non è anime gemelle sono forti sono due anime molto simili che si trovano ok quindi sono forti assieme ma quando si riuniscono le fiamme la potenza della ps si moltiplica esponenzialmente cioè se una ps forte molto forte e molto diciamo consapevole è grande così una ps con le due anime con le due fiamme unite rispetto a questa è a grande così come forza c'è una roba è una potenza è veramente fortissimo c'è lo senti la forza si espande io dire a chilometri è una cosa veramente potente e secondo me è la forza vincente di più fiamme si ritrovano si uniscono e più diventiamo forti in questo percorso di evoluzione consapevolezza l'aver messo lo richiedo lo specchio sopra le nostre teste ha fatto sì e sembra da quelli che ci scrivono che sia così che molti si siano riconosciuti se in eterico se molti si sono riconosciuti molti hanno sospetto di aver visto la fiamma in eterico e sono molti di quelli che vengono da noi e quindi per quello che ultimamente ne troviamo tante c'è un limite mini c'è un numero minimo per cui la matrix di fiamme che si rincontrano per cui la matrix implode colla o se non la matrix almeno questo sistema in cui noi qui sulla terra si amara c'è il primo il primo step diciamo 10 milioni a 10 milioni inizia veramente non c'è più storia e a quanto siamo 580 mila 10 milioni quindi su 300 milioni se ok mettiamole tutte nel cinema grande grande cinema di 300 milioni di ps che hanno la possibilità potenziale di vivere la vita insieme anche non come compagno compagna compagno compagno compagna compagna ma anche come mamma figlia fratello fratello e sorella fratelle così via in più invita i tre dischi piccati nella schiena di jenny la madre e padre tutti quelli che le ha chiesto stiamo dai parenti chi si è presentato e dove si siede a che livello si siede allora i due figli in prima fila anche il compagno però compagna si siede lì perché deve tenere tutto deve tenere sotto controllo vedere cosa facciamo da sbruffone quasi come se pensasse che può intervenire nel caso in cui allora viene qua prendere informazioni a partecipare in maniera corretta si viene a controllare a fare lo sbruffone quella la porta io non li voglio questi così cinema mio biglietto le metto io o entra con queste intenzioni o se ne va se ne è andato ciao poi chi viene figli in prima fila controllore già sono pieni di scusami la causa sottica di quella cosa che è successa oggi di quella persona che ha dato fuori di testa così poi me lo dici che è una causa sottica c'è dei suoi problemi personali vista la cosa ok dicevo i figli due piccolo grande se davanti in prima fila poi i suoi genitori più o direi se quinta fila e poi c'è qualche parente mi sembra una zia un cugino una cugina più o meno in ottava fila e qualche amico due amiche un amico ok adesso come se fosse entrato un po farsi notare poco diciamo un po insordina un po per non farsi notare troppo seconda fila nell'angolo la fiamma perché non viene davanti si nasconde solo da se stesso in questo no no non da se stesso ora a nascondersi da chi conosce jenny perché perché per rispetto su dice forse non è ancora chiaro che in eterico si può si può fare tutto secondo me infatti è stato davanti in prima fila vabbè ok i 300 milioni dove sono sono tutti dalla decima fila in poi tutto pieno 300 perle dove sono all'interno delle 300 di 300 milioni o no 100 si 200 solo è come se sì c'è la fiamma ma sono ancora presto si incontreranno in questa c'è la possibilità di incontrarsi in questa vita ma come se fosse presto li vedo la maggior parte sono piccoli piccoli tra virgol c'è sono alcuni sono anche bambini e quindi prima dicono dobbiamo fare la prima parte da soli come allenamento e poi a un certo punto della vita fare diciamo dedicarci al ritrovo con la fiamma ma tra le perle ci sono le fiamme corrispondenti o non è detto no 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 non per forza non per forza va bene identità e tiri che l'abbiamo viste le mentale dovevamo viste impianti c'è un impianto mentale c'è un impianto mentale che come se fosse un gancio e mezzo proprio la testa con una specie di filo dove l'entità di livello 3 come se la come se muovesse geni con un burattino e quindi la ferma quando deve smettere di pensare o parlare la sposta e quindi oltre a cambiare le pensieri la muove proprio lo spazio in maniera destabilizzante destabilizzante che è venuta una cosa di pugliesi poi poi vedo allora quello che mi fa vedere che mi fanno che mi fa vedere come se aveva tipo un impianto eterico a corrispondenza del cuore sulla superficie e come se riuscissero a gestire una parte emozionale l'emozione relativa all'ansia quindi come se riuscissero aumentare un po il battito comunque fare il sentire le palpitazioni e gene da quel momento leva un po in ansia un po in panico non esagerato è solo un po una sensazione questo è per abbassare le vibrazioni e fermarla poi c'è e poi ci sono due impianti a livello delle piante dei piedi adesso da sinistra prima utilizzati solo durante l'addaction ma non ne le fanno spesso era una volta al mese circa causa esoterica di un unico punto scarsi soldi lavori umili talenti non espressi scuole non desiderate studia quello che è utile non quello che vuole umiltà umiliazioni perdite fughe di denaro non ha mai soldi insomma si ha vedo lì adesso è collegata a riesco a capire perché allora credo che questa cosa è partita dall interferenza di una mantide che riusciva sempre a fargli cambiare strada per esempio la quella più chiara da che espliciamo bene questo meccanismo la scelta della scuola superiore ok idee chiare lei dritta verso un tipo di scuola arriva lì e poi l'interferenza della mantide attraverso anche il convincimento dei genitori segnanti parole così arriva lì a quel punto poi ti colpo devi e va da un'altra parte questo per tenerla bloccata se l'avesse fatto la scuola voleva fare la sua creatività sarebbe esplosa veramente a livelli altissimi e avrebbe ritrovato avrebbe ricordato la tecnica con cui creava i soli e tutti questi blocchi quindi anche sempre lavori umili che ha fatto sì che lei non potesse essere indipendente e quindi aumentava anche la vibrazione dell'idea che lei non era in grado che non riusciva arrivare a quel livello quindi sempre tenuta su un basso piano su un basso profilo per far sì che lei non potesse tornare a riutilizzare le sue capacità le sue potenzialità le sue capacità mediane che tra cui c'è anche la chiaroveggenza per fortuna la ps è riuscita a darle dei segnali dove lei si è lasciata trasportare approvato e ha visto che è in grado e quindi un po il dubbio l'ha avuto e quindi anche il desiderio di farlo perché sennò finora l'avevano tenuto molto nascosta questa cosa lei ha avuto degli episodi magari che non ricorda nemmeno di chiaroveggenza cioè ha visto chiaramente qualcosa che poi avvenuto qualche deja vu come l'impressione di essere già stata in qualche posto lei ci ha fatto poco caso questo quattro cinque volte nella vita dove può magari ricordarsi e poi vedo che sogno 2 3 che si può ricordare e poi spesso ma non è come se lei non ci crede no dice ma se la mia mente le arrivano delle intuizioni delle frasi o delle immagini ma dell elimina subito perché le hanno sempre messo in mente l'entità che lei non era in grado che non era capace quindi era impossibile ok a lei lei ha la capacità medianica di ringiovanire più che dire in giovanile di non invecchiare vedo proprio che anche lì in quella vita da eremità ha deciso lui quando era ora di far sì che le sue cellule potessero continuare il processo come se fossero state fermate a una certa fase dove erano tutte salutari e sono rimaste così per tantissimi anni poi un certo punto di esperienza ha deciso che poteva iniziare la degenerazione fino alla morte fisica e vedo che lei può sicuramente recuperare questa capacità e vedo proprio che è come se dall'esterno lei entrasse dentro di sé e va a fare un check di tutte le sue cellule di tutte le cellule del corpo e come se facesse facesse un'opera di blocco registra la registrazione non so come dire di sistemazione dell'informazione che ogni singola cellula degenerano e se andasse la e cambiasse l'informazione con posso vivere possa essere così salutare e basta cioè senza il tempo senza io sono così quindi vedo proprio che lei ogni tanto prende entra e va a fare un check su tutte le cellule del suo corpo quindi lo fa già diciamo che tendenzialmente lo fa ma non facendolo consapevolmente adesso per ora sono per ora erano ancora più forti le interferenze era una capacità che ha tenuto da quella vita lì e quindi è nata già con la capacità ma le interferenze ora sono più forti quindi se lei non riprende a farlo consapevolmente del genere aprì le sue cellule degenerano prima che prima rispetto a si dice scambone italiano forbito dimmi di me cioè degenerano prima che rispetto a alla condizione in cui lei consciamente consapevolmente riuscisse a invece a dare l'informazione ogni cellula periodicamente tipo ogni mese ogni due mesi quindi se lei recupera questa capacità consapevole e riesce a riportare l'informazione a tutte le cellule in maniera consapevole costante va bene causa esoterica dei no esistono talenti allora l'immagine che mi è arrivata è tramite il disegno cioè io la vedo a un tavolo da disegno ok proprio con un pezzo di carta una matita dove lei fa un disegno che ne so viene una persona così è una persona dice guarda io sono due mesi che sono molto depresso e ho questa sensazione di depressione al livello della pancia ok lei facendo uno schizzo che per lei rappresenta questa emozione di quella persona fa proprio uno schizzo e da lì apre un campo energetico suo dove riesce a creare quei soli con la vibrazione che portano l'informazione nella mente della persona proprio tramite il disegno va bene non so no no sì sì chiaro causa esoterica dei limiti verbali dell'essere sempre in difesa allora l'entità quattro è quella dei limiti verbali l'identità quattro è quella che la fa sempre stare proprio in difesa cioè si sente proprio sempre attaccata senza poter reagire e l'entità quattro proprio un meccanismo suo di impossibilità a a reagire a chiedere anche dall'altra parte causa esoterica dei problemi dei limiti emotivi sia l'entità eteriche che l'entità mentali lavorando assieme diciamo in collaborazione mantengono sempre le vibrazioni basse e ogni volta che lei ha un'emozione negativa che può essere di tristezza di inadeguatezza di insicurezza di limite di limitazione così loro agiscono o mentalmente oppure con delle azioni esterne dall'esterno per mantenere queste vibrazioni basse e mantenerla in quella emozione lì negativa non appartenenza allora è come se lei dovesse trovare una sua dimensione concreta è come se quel posto lì veramente non fosse il posto dove lei vuole stare ma proprio a livello concreto proprio anche la regione si fisico come se lei sentisse che è in un'altra proprio in un'altra città in un altro paese so perché c'è nulla casa e basta ma che paese della regione si direi che anche la regione diversa vedo più su ovest centro ovest dell'italia potrebbe essere azio toscana o lei sorride molto io non so che io ne effetti io le ho detto sera toscana infatti per cui come c'è un eco vergognoso una cosa assurda e sembra di essere papa polacco schifo adesso non mi è arrivata una cosa da poterla dico ricordami ok di papa polacco no più che papa polacco eco eco e l'interferenza di oggi sono legati ma che le pantere esatto ma sempre quella lì l'e letterata ma ancora non l'interferenza di oggi sì ok ma perché questa lavora non può lavorare qual è la causa esoterica del fatto che questa qua ancora lì però per alle balle l'invidia e no ok ma questa quanto vibra scusami la poveretta che non è andata a scuola quanto vibra ma lei vibra vasta ma usa altri strumenti quali sono gli altri strumenti fuori gli strumenti tre persone fuori le persone non posso l'interferenza di oggi anche ok ma come fa a utilizzare questi metodi non ha il nostro consenso siamo dentro ha detto al consenso dell'altra persona non c'è ma è da quasi spiego ad eterno ma l'altra persona d'eterno ma la poveretta illetterata ad eterno ma tutte le pantere ad eterno ma quel gruppo lì che non so più che le pesci pigliare noi siamo dentro a una d'eterno platinum dei platino dei super platino non esiste nessuna interferenza io nego qualunque tipo di interferenza al mio danno nego anche l'interferenza che sta subendo adesso geni da qualcuno che la sta disturbando questo è il momento diamo questo messaggio questa persona che vada a fare altre cose adesso no questo è il tempo di geni è il momento di geni oggi geni ci dimostra che è la creatrice di soli e che cosa significa diamo solo ancora un ultima cosa la causa esoterica del non ordine non vorrei definirlo disordine perché l'ha detto no ordine e della non comunicazione che vabbè questa prima ne abbiamo già detto comunicazione sempre entità livello 3 e 4 quando riguarda il suo non riuscire a reagire e non ordine il non ordine sempre legato al non non essere nel suo posto ok iniziamo con la comunicazione geni di a chi ti sta disturbando di andarsene e di non farsi vivo per un'altra mezz'ora vai poi prego diglielo chiunque sia incredibile ma ho provato a farlo anche qua c'è nello stesso istante tanto tu ricarica ti anzi vai a vedere la solita cosa ma non so quanto è quello che vuoi perché l'è andata un attimo aspetta che torni mette l'interferenza di oggi in una d'eterno di cose fai quello che vuoi ok geni è tornata emozionale vediamo subito se c'è la bassa autostima e il senso di inadeguatezza se ordine sparso e non c'è un filo logico le serve sirio b quella tecnica anzi che porta e vedo che si agganciano a sì sì si agganciano ai suoi dl e quindi siriani che hanno inventato la cretinata di che va tanto di modo adesso attenzione ricordatevano i siriani quelli poi serpentelli ma ci sono i simili perché serpentali non contano niente contano come l'illetterata allettata ok causa sottile cade non dormire con il compagno cosa che trova una roba agghiacciante con tutto rispetto però come se lo considerasse con un ruolo diverso del suo compagno lui a quanto vivono lei sette e mezzo miliardi non è male anzi ma molto bene quasi quasi ottimo 680 milioni già solo questa una risposta c'è differenza di vibrazione che poi si traduce in lei ottimista sorridente ritorno dal lavoro che come sono deciso 10 persone o polemico non so critico su ogni cosa non è pronto questo cos'è quello non è pulito il bagno è sporco esatto si è proprio così vedo una cosa così da questo spieghiamo anche cos'è la vibrazione nella roba astratta una persona estremamente negativa certo fa passiva aggressiva inconcludente che non fa le cose che sia la mente basta dalla mattina alla sera all'esterno con anche tra sempre la responsabilità della sua tristezza della sua soddisfazione all'esterno alle persone soprattutto esterne le cose lui e in generale da lui e in generale ok fratello disincarnato non ne ha parlato quando c'eri tu ma è nei punti c'è un fratello dimmi se siamo fatti prima come se vedevo a bollire vostro fratello che girava intorno al cinema ma non poteva cioè non faceva parte di quelli del cinema infatti poi non si è seduto e e tu non sapevo io non l'ho detto è un aborto non so se spontaneo voluto ma non importa è un fratello quindi ancora sulla terra non si era incarnato no è ancora sulla terra io dire che è arrivato un ragazzo intorno tra i 18 e i 20 anni lo vivi così e quindi probabilmente con le vesti di un'altra vita è arrivato cosa vuole dire a genni era molto ansioso di poterla abbracciare e io direi che hanno vissuto erano nella vita precedente insieme ce ne hanno vissuto insieme anche la vita prima c'è solo la vita prima direi ok portale aureo lo apriamo chiamiamo tutti i parenti di genni di tutte le generazioni e il capofila è il fratello abortito se vuole dire dare un messaggio lasciare un messaggio specifico anche se una persona che comunque lei non ha conosciuto lo può fare no era questo che voleva che lei sapesse abbracciarla e dirle che abbiamo già vissuto assieme la vita scorsa ok quanti sono quelli che arrivano 69 se tu chiamassimo i morti da cinivac adesso quanti ne arriverebbero visto che sono passate tre ore 4 683 però in tutto il mondo è tutto il mondo bene tutti dentro appassionatamente evviva ok allora andiamo con la creatrice di soli al cluster vediamo cosa cosa fa come ci va bellissimo la scena era vista molto attiva come se fosse indaffarata a fare una grossa pulizia tipo di un solaio di una cantina no e quindi lei è andata dritta al cluster aperto portare definitivo poi sei proprio come le diciamo di solito le donne si mettono quando fanno pulizia con i capelli tutti raccolti con vestiti un po trasandati così è proprio lì che fa che tira su tutti i contratti e li butta proprio indaffarata molto attiva ne ha buttati dentro il buco al portale definitivo e la chiusa e dice trovo a mettere invece che la d'eterno il sole i suoi soli ok quanti ne mette visto ci sono certe si sette sono sei o se fossero tante sfere una dentro l'altra a contare in treci materi osca ok avatar mi ha messo un casco di soli sulla testa della nota e poi forse portare definitivo dovuta lì e soli rilasciarli ok quanto vibra a quanto vibra uno di questi soli di jenny 10 mila miliardi vabbè ne fa tanti e vanno bene ok niente più contratti niente più burattino programma che la controlla c'è ancora la paura che lei mi ha scritto nel frattempo di lasciare il compagno e la sensazione che se lo lascia poi lei resta malata o sta male proprio visto prima senza saperlo quando c'è stato un momento dove ho visto questa sua paura che svaniva ho proprio visto questa sua paura noti che lei come se lei fosse qua con la paura di lasciarlo e dopo un attimo era di qua e la paura e la svanita stessa domanda il fratello abortito non ho capito in che senso c'è lei ha paura di lasciarlo andare con il pensiero i pensieri andare e di stare male adesso starà male ma no assolutamente questo pensiero alla gente va lui no pensiero che continuavano a mettere l'entità mentali e gli uomini del tempo soprattutto lei quali problemi aveva se ne aveva da questo attaccamento o più che attaccato a lei diciamo che era come se fosse la presenza di un terzo figlio in che senso era come se nella sua vita lei aveva due figli ma il carico era come se fossero tre sono stati tre nonostante fosse fratello in teoria sì sì bene con questa nuova condizione ci sono ancora le varie entità interferenze impianti abduction cloni che più ne ha più ne metta no i tre dischi sulla schiena no 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 i tre e dl no mettuno dino falco rettile niente uomini del tempo no se ne si metta un gruppo di soli nel gruppo fisico perché non sette lungo il genere o 9 con due anche alle mani chakra minori o un dc che bel numero con anche i piedi 7 più 2 più 2 che fatto interferenza scacciava scaccia vigente 1 nel corpo emozionale nei vari posti vuoti in cui c'erano delle emozioni negative la base autostima si diciamo che di mezzo tutti e sette che preoccupano tutto lo spazio delle emozioni negative di proprio 4 3 1 nel corpo mentale no dove lo mette dove c'era la partenza dell'impianto mentale che lo teneva collegata con il filo uno nel corpo eterico e uno nel corpo subliminale ok andiamo nel cinema prima di vedere come stanno i suoi parenti entro io nel cinema bimbo matto bombarolo ho un sacco gigantesco di ad eternum e siccome il cinema è mio e faccio quello che voglio li butto tutti nel cinema sono tutti per le fiamme se me lo richiedono uno a testa 300 milioni qui tanto matto tanto bombarolo in modo che tutte si sveglino non mi sto privando di neanche un grammo della mia energia è tutta energia vibrazione a disposizione di tutti solo che io l'ho capito e la metto a disposizione di tutti quella che è di tutti che lì dimmi cosa vedi è come se col col vedo qua mamma mia una roba potentissima allora prenderò una d'eterno come se l'assima assimilassero la vibrazione altissima e poi in eterico automaticamente le fiamme gemelle si uniscono queste si fondessero in automatico no prima era potevano essere un po sparse ok si trovano cine esatto si accoppiano si avvicinano vis a vis c'è qualcuno che conosci che puoi vedere tra le varie persone che conosci può fare delle verifiche ma temi quando si è fatto ok geni ha fatto qualcosa questo proposito se non so se l'ha sentito è stato molto potente in vibrazione dopo a chiedertelo 360 miliardi ecco perché ho chiedertelo consapevolezza 331 di s e p e 67 33 vite precedenti 967 però quasi un quarto tra tutti i dati la più importante secondo me sono la vibrazione e le vite precedenti sp e meno importante alla fine perché più si riducono non è una regola però che si riducono più si è capito la vita precedenti e consapevolezza vanno un po di pari passo ma non sempre perché può aumentare molto la consapevolezza ma le vite san lì si riducono un po cervello 99 messaggio finale della ps della p e di geni a geni relativamente ovviamente sempre a tutto metterei un particolare accento a i talenti i lavori lavori che non devono essere più umili sottostimati rispetto alle sue la sua preparazione le sue capacità e il riconoscimento economico che chiaramente va di pari passo è sotto le sue esigenze e la qualità del suo operato allora deve proprio allenarsi allora io partire da questa cosa perché mi sono arrivato proprio tutte delle immagini molto chiare molto nitide allenarsi in primis a parlare con la sua ps andando nella natura il contatto soprattutto con gli alberi mi fa vedere e in salita non so perché boschi un po in salita e con gli alberi mentre a contatto con gli alberi immaginarsi di alzare le vibrazioni e mentre guarda gli alberi prestare attenzione alle immagini e all'informazione che le arrivano questo fa sì che lei si alleni a essere centrata con la sua ps ea ricordarsi come fare chiaroveggenza ok poi vedo che mi è arrivato come potenziare sua realizzazione siamo lavorativa e che la può rendere indipendente da quello che mi è arrivato così poi non so fare tipo del coaching utilizzando l'arte e la sua capacità appunto a modulare le vibrazioni con i suoi soli quindi meccanismo che ho visto prima rispetto alla persona quindi partendo da uno schizzo alzare le vibrazioni e far arrivare la soluzione all'altra persona mi è arrivato proprio un messaggio tipo coaching quindi aiutare la le altre persone a trovare la propria una propria strada in questo utilizzando l'arte e i soli e anche la chiave genza comunque questo mi è arrivato ok i componenti della sua famiglia presenti nel cinema che fanno i figli e la fiamma esultano è un'altra cosa che mi è arrivato è prestare molto focus c'è adesso non è che deve diventare matta che però centrarsi rispetto al contatto con la fiamma perché può sembrare lontano ma se lei rimane centrata e si collega in eterico ci sarà fra non molto scatterà qualcosa potrebbe scattare qualcosa bene come la vedi la creatrice di soli la vedi creatrice adesso la vedo creatrice tantissimo e la vedo che rimane sollevata dentro un sole entro uno dei suoi soli e con tanti soli intorno più piccolini che le sparge e crea quello che vuole ok abbiamo finito sei pronta a tornare se disconnetti allora da tutte e tutti e noi torniamo